Un caro saluto a tutte e a tutti. Siamo al consueto appuntamento del venerdì con il nostro approfondimento. Anche questa settimana abbiamo un ospite molto gradito, anche un amico al quale do il benvenuto. Si tratta di Gabriele Buia, presidente del Lance Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Intanto ti faccio la prima domanda per chi ci ascolta. Ma che cos'è Lance? Quanti siete? Da dove nasce questa associazione? Siete associati a chi? Siamo la maggiore associazione di rappresentanza del mondo delle costruzioni in Italia. Aderiamo a Confindustria e rappresentiamo tutte le varie tipologie di imprese che operano in Italia oggi. Abbiamo più di 20.000 iscritti. 20.000 imprese che sono iscritte a Lance. E tu sei presidente da quando? Dal novembre del 2017, le ultime elezioni, e resto in carica a quattro anni. Quindi sei fresco, diciamo. Fresco. Appena iniziato, ho iniziato bene. Hai appena iniziato e hai iniziato. Ma Lance quando è stata fondata? È stata fondata nel 1946 dopo la Seconda Guerra Mondiale e da lì si è sempre più ampliata e è diventato un grande riferimento per la politica, per l'opinione pubblica e per il mondo stesso delle costruzioni. Ma adesso, se non sbaglio, Buia è un cognome notto nel settore oppure non mi pare che il tuo bisnonno abbia fondato questa azienda? Sì, io sono di quarta generazione, il mio bisnonno cominciò a operare nel mondo delle costruzioni alla fine dell'Ottocento e io oggi cerco di portare avanti l'impresa familiare con tutte le difficoltà del caso, ma mi adopero per questo. Tra l'altro mi parlavi di un bisnonno con 11 figli, come capitano all'epoca. Siete maschi, quattro femmine. Che avranno incontrato la guerra. Avranno incontrato la guerra del 15-18, dopo la guerra si costituirono in maniera un po' più organica e fecero la prima impresa familiare e cominciarono a rioperare con le manutenzioni finché si sono assestati e hanno creato una certa demitazione e un certo riferimento specialmente per il territorio dove per lo più operiamo. Quindi la tua azienda adesso di che cosa si occupa? Quante persone ha? Noi siamo ormai oltre 30, ci occupiamo di costruzioni in genere a 360 gradi, dai restauri alle nuove costruzioni, alle manutenzioni. A tutto quello abbiamo fatto con soddisfazione creato la prima operazione di housing sociale che è stata finanziata in Italia da Cassa Depositi e Prestiti. E questo lo dico con soddisfazione perché abbiamo aperto una strada importante di collaborazione fra Cassa Depositi e Prestiti e l'imprenditoria privata, per cui penso che sia stato un bel fiorelocchiello. Bene. Quindi, come vedete, abbiamo un ospite che arriva dalla trincea, imprenditore delle costruzioni e adesso presidente di questa importante associazione di Confindustria. Allora, partiamo subito con le questioni di attualità politica che riguardano ovviamente il tipo di attività che tu svolgi, la tua ottica. Non è un caso che io abbia voluto invitarti, perché qui c'è un grande tema che riguarda il paese. Questi cantieri sono bloccati, si sbloccheranno, quanti sono i cantieri bloccati, quanti soldi rimangono nei cassetti in un'Italia che purtroppo, come si dice, non cresce. Anzi, si parla di stagnazione o recessione. E noi sappiamo che l'edilizia è, come si dice, il motorino di avviamento dell'insieme, perché ci sono grandi ricadute, l'indotto, l'occupazione. Insomma, è un volano. Ma tu come la vedi? L'edilizia è sicuramente un grandissimo volano per la crescita del nostro prodotto interno lordo. La parte del prodotto interno lordo del mercato interno è proponderante, è il 70% del totale. E noi ne siamo il motore pulsante di questa crescita o mancata crescita, perché oggi purtroppo devo parlare di mancata crescita. Il mondo delle costruzioni è in crisi dal 2008 e ormai è l'undicesimo anno di crisi. E questo si denota al fatto non solo perché abbiamo perso tantissime imprese, oltre 120.000 imprese. E quanti addetti avete perso? Oltre 600.000 addetti. Sono cifre impressionanti che siano per lo più svanite nel dimenticatoio. Andate nel dimenticatoio perché il tessuto medio imprenditoriale italiano è fatto da piccole e medie imprese. E man mano chiudevano, ma nessuno se ne accorgeva. E siamo arrivati a questi 600.000 addetti che abbiamo perso. E questo è importante. Oggi si sta accorgendo di questa problematica perché le grandi imprese stanno maturando, stanno segnalando grandissime difficoltà. Ma non dobbiamo dimenticarci di tutte quelle imprese e lavoratori che abbiamo perso lungo il cammino. E dobbiamo fare spesso riferimento e pensare di quello che abbiamo perso. Però per tornare alla crescita, il paese non cresce. Oggi siamo in recessione tecnica. Anche la cosa ci sta preoccupando perché non vediamo segnali concreti che possono consolidare quei piccoli e timidi segnali di crescita che abbiamo noi come settore delle costruzioni, senza il quale il paese non cresce. E noi dobbiamo spingere perché fare in modo che la politica attenzione il settore e ci diano delle misure per crescere e per consolidare quei minimi segnali di crescita. Perché purtroppo anche gli ultimi dati dell'Ista ci dicono che abbiamo avuto una crescita della produzione di uno 0,5%, ma alla fine su baso anno ne perdiamo 1%. Per cui alla fine abbiamo segnali timidi ma che non si consolidano. Dobbiamo, secondo me, fare in modo che prima di tutto il paese utilizzi le risorse che stanzia. La legge, le ultime leggi di bilancio dal 2016 al 2018, quei tre anni, abbiamo avuto maggiori risorse negli investimenti infrastrutturali come legge di bilancio. Purtroppo la legge di bilancio del 2019 è il contrario, abbiamo sottratto e per la prima volta, dopo tre anni di crescita, per la prima volta abbiamo avuto una diminuzione degli investimenti in infrastrutture. Quindi diciamo che l'ultima legge di bilancio ha un po' uno squilibrio fra spesa corrente e spesa di investimento. Assolutamente. Si capisce bene. Certo, la spesa corrente continua a crescere in Italia e chiaramente quando crescono le spese correnti si diminuisce la spesa per investimento, è sempre stato così. Noi per crescere, visto che l'investimento pubblico è anticonciunturale, è una legge keynesiana, non è... e visto che tutti gli economisti asseriscono lo stesso principio, bene, dobbiamo per forza di cosa spendere quei denari che sono già stati stanziati nelle leggi passate. Da leggi passate fino al 2033 avremmo a disposizione 150 miliardi da spendere. Perché fino al 2033? Perché hanno già preso una programmazione che ci porta già adesso a definire che ogni anno devono essere stanziati i risorsi per arrivare al 2030. Ecco, nel 2033 avremmo stranziato 150 miliardi da spendere vari anni più o meno. Ad oggi il Ministro Tria ci ha detto pochi giorni fa che nelle casse dell'estate lo Stato giacciono 87 miliardi inutilizzati. Se noi ipotizzassimo di usare questi 87 miliardi tutto in una volta unica, impossibile, ma ipotizziamolo con un moltiplicatore di 15 mila posti di lavoro per ogni miliardo impegnato, vedrete che potremmo avere un'implementazione dell'occupazione di quasi un milione e 300 mila addetti. Cifre importantissime per la crescita di un paese come il nostro che non cresce. Allora dobbiamo snellire le procedure e dobbiamo fare molto di più per teorizzare quei denari lì. Quindi sul denaro abbiamo visto si stanziano, non si spendono. Questo è un malanno dell'Italia, poi se pensiamo ai fondi europei mi pare che lì andiamo peggio ancora. Insomma, quando tu hai nel cassetto le risorse ma le tieni nel cassetto è evidente che non creano un volume di investimenti, di consumi utili all'economia. Se posso, se posso, solo per l'integrazione di quello che giustamente hai detto, voglio segnare questo. La filiera delle costruzioni è lunghissima, il mondo delle costruzioni attiva 32 sistemi industriali su 35, per cui è una filiera lunghissima, un indotto importantissimo e non a caso tutta la filiera si è impoverita con la nostra decrescita. Pertanto dobbiamo avere un'ottica, la politica deve avere un'ottica ben chiara e deve capire cosa va a legiferare e su cosa va a legiferarne. È importante che ci sia questa conoscenza, altrimenti si perde di vista... Anche perché c'è il momento della costruzione, può essere un ponte, può essere una casa, può essere un viadotto, è quello che è, ma c'è quello che avviene prima e quello che avviene dopo. Nel caso di un'abitazione, penso a noi famiglie che compriamo un'abitazione, abbiamo prima da mettere in moto una ristrutturazione, se è il caso, oppure una costruzione ex novo, quindi vuol dire il cemento, i laterizi eccetera, e dopo dobbiamo arredarla. Quindi c'è tutta l'attività, il legno, la costruzione, il mobile. Figliera lunghissima. Quindi è una figliera molto lunga che conferma quello che tu dicevi, questo volano che è purtroppo... Difatti sempre su base economica, non dati nostri, ma perché mi piace sottolinearlo, ogni euro investito nel sistema delle costruzioni genera un indotto diretto e indiretto all'economia per tre euro, per cui ogni miliardo ne genera tre di indotto economico. Quindi bisognerebbe avere una grande attenzione, ma le cifre le abbiamo viste, la filiera anche, ma i cantieri sono bloccati, si sbloccano grandi opere, piccole opere, perché noi pensiamo alle grandi, poi ci veniamo, ne discuteremo, ma anche le piccole. Che sta succedendo? Allora, noi abbiamo voluto denunciare, dopo purtroppo la tragedia del Ponte di Genova, il degrado delle infrastrutture italiane e ci siamo messi a mappare tutte le opere bloccate. Bene, ad oggi ne sono emerse oltre 600 per un importo di 51 miliardi bloccati. 600 opere bloccate per 51 miliardi bloccati. Bloccate da cosa? Bloccati dalla burocrazia, bloccati dall'inerzia decisionale, bloccati dalla ferroginosità burocratica e bloccate non ultimo anche da un codice appalti che già è approvato nel 2016, è un codice che ha impoverito e ha praticamente bloccato la pubblica amministrazione, è stato fortemente impattante sulla pubblica amministrazione. Dobbiamo, quelle opere adesso, fra cui c'è sicuramente le opere infrastrutturali importanti di cui si sta discutendo, come la TAV, ma non ultima, la Campogallia del Sassuolo, l'Alta Velocità, Bressi a Padova, l'Italzo Valico, tutto quello che ormai è balzato all'onore della cronaca. Ma la Salerno-Reggio Calabria è fatta oppure no? Sì, è arrivata, adesso ci siamo arrivati. Gli anni che hanno impiegato, questo è il problema dell'Italia, che per fare le opere impieghiamo, dati dalla Presidenza del Consiglio, più di 15 anni, 15 anni e per esattezza di 7 mesi per fare un'opera superiore ai 100 milioni di Euro e per fare un'opera di piccolo cavotaggio, di 100-200 mila Euro, il tempo medio sono 3 anni, fra dal momento che viene ideata, progettata e eseguita. Sono tempi lunghissimi e fa ancora maggiormente specie il fatto che di questi tempi il 55%, sempre fonte Presidenza del Consiglio, siano tempi, loro le chiamano, di attraversamento. Cosa vuol dire? Sono tempi morti, tempi necessari per decisioni continue, per pareri, per pratiche che vanno da un ministero all'altro. Questo è l'Italia purtroppo, impiegare 100 milioni di Euro in 7 anni anziché in 15 cambia completamente l'impatto economico e noi purtroppo dobbiamo impegnarci su queste cose e per questo che noi abbiamo chiesto la nomina di una commissione costituente, fatti da pochi esperti di diritto costituzionale, amministrativo, che intervengono conoscendo le norme per semplificarle, ma bisogna tagliarle non con il bisturi, con l'accetta, perché in Italia oggi ci sono quasi 150 mila norme e leggi e spesso queste leggi sono subordinati a decreti attuativi che non vengono mai fatti e questo si continua a bloccare l'operatività della macchina italiana. Quindi abbiamo questa necessità di sblocco, ma parlando della grande opera, questa TAV, ma tu come la vedi? Noi abbiamo più volte detto che la TAV ricopre diversi aspetti. La prima, la TAV nasce dietro accordi internazionali che l'Italia ha sottoscritto. Lo Stato ha un'immagine importantissima. Se lo Stato stesso, che ritorna sui propri passi, rivedendo contratti internazionali sottoscritti e rischiando di perdere credibilità, è un problema per tutta l'Italia. Lo Stato deve avere una dignità, deve avere un'immagine, deve avere una parola. E non possiamo tutte le volte rimangiarci quello che ha fatto il governo precedente o altro. La TAV abbiamo lottato per portare il corridoio 5 da sopra l'Italia a dentro l'Italia. E giustamente dico perché il nostro territorio sarebbe stato escluso dai mercati futuri. Passava in Svizzera, passava sopra. La Svizzera adesso è pronta, è già pronta per riprendersi la linea. E noi abbiamo sottolineato che oltre all'immagine dello Stato, questo era un grande momento di crescita per l'Italia e noi dovevamo essere collegati all'Europa, se volevamo vincere la competizione globale tramite le nostre industrie. E pertanto questa infrastruttura l'ha fatta, oltre il beneficio che porta alla crescita dovuta agli investimenti di quei miliardi che noi e l'Europa mettiamo a mano. Senza infrastrutture non si cresce, è chiaro. L'infrastruttura è un investimento più che un costo. Vediamola su questa maniera. Se noi pensiamo di andare per esempio in territori come il Sud e ipotizziamo di fare per ogni opera messa nel Sud costi-benefici, non ne faremo una dell'opera nel Sud. L'opera infrastrutturale è un investimento, dicevo, è un investimento sociale, specialmente in territori come il Sud, prima si investe nelle opere e poi si chiede alle imprese di insediarsi. Perché senza infrastrutture non ci sarà nessuna impresa che andrà a insediarsi in territori dove i loro prodotti non possono essere esportati rapidamente o distribuiti rapidamente, perché avranno dei costi altissimi. E questo impedirà qualsiasi insediamento produttivo. Per cui perdita di sviluppo, perdita di occupazione. In territori come il Sud dobbiamo investire, non pensare ai costi-benefici. Dopo arriveranno sicuramente i benefici. Mi pare però che l'azione del governo sia su questo punto abbastanza contraddittoria, perché qui dobbiamo sapere se andiamo incontro alla cosiddetta decrescita o se invece scommettiamo sulla crescita. Poi il fatto che la decrescita sia felice mi lascia abbastanza perplesso. È evidente che dobbiamo investire bene e rendere compatibile l'investimento col territorio. Ma pensa soltanto al dissesto idrogeologico se, come dici tu, si concepisse non come un costo, ma come un investimento. Se anche l'Europa però cambiasse strada, perché l'Europa è stata un po' matrigna, diciamolo. Io sono per gli Stati Uniti d'Europa, ma non per questa Europa, perché l'Europa del rigore è quella che ha impedito gli investimenti. È quella che ha privilegiato, metti in equilibrio i conti, che vanno tenuti d'occhio e ci mancherebbe. Ma ogni tanto la famiglia, perché lo Stato è poi una famiglia, si espone, fa un investimento, poi rientra con gradualità. Se tu anteponi la restituzione di un prestito, me lo dai domani mattina, andiamo da mangiare i bambini. Credo che questo non sia saggio ed è avvenuto purtroppo questo. Quindi c'è questa necessità. Io spero che questa contraddizione si risolva, perché non possiamo da una parte dire investire, Salvini lo dice, Di Maio dice, fermiamo la TAP, perché prima o poi questa contraddizione può essere rimandata in occasione delle elezioni europee. Nell'ambito di questa semplificazione, vorrei che tu mi dessi anche una opinione sulla questione del massimo ribasso, questi appalti al massimo ribasso. Ma voi come li vedete, bene o male? Gli appalti a massimo ribasso vanno aboliti, li abbiamo sempre contrastati, non li vogliamo assolutamente, abbiamo sottoposto al governo misure alternative che in un ambito di trasparenza, legalità e ampia concorrenzialità possa dare risposte concrete, in un criterio di deseducazione, in un momento un'asta o una licitazione privata, possa dare risposte immediate all'amministrazione e alla collettività. Gare che durano mesi, se non anni, per come sta succedendo adesso, con l'utilizzo del criterio di un momento più vantaggioso, dove le amministrazioni non preparate, anche in base alle ultime norme che non sono uscite, si bloccano davanti all'incertezza o si bloccano perché è difficile interpretare e dare dei pareri, fanno sì che le opere abbiano una gestazione decisionale che supera l'anno, a certe volte, se non in casi eclatanti ancora di più. Per cui noi vogliamo dei criteri che abbiamo sottoposto dal legislatore di massima trasparenza, come l'esclusione automatica con metodo turbativa, dove c'è un metodo matematico molto semplice, che è trasparentissimo e sicuramente non è strumentabilizzabile da nessuno, comunque il metodo in una giornata si appalta un lavoro in maniera molto rapida. Per cui penso che il nostro ruolo di parte sociale, attiva e propositiva sia stato fatto. Dipenderà adesso di cosa succederà in questo decreto, perché aspettiamo di vedere concretamente novità di cambiamento. Quello che non si capisce è come mai Lance, quindi chi rappresenta, diciamo, il costruttore, quindi l'imprenditore, e i sindacati, che rappresentano i lavoratori, siete d'accordo sul massimo ribasso, ma pare che si vada invece non nella direzione di eliminarlo, ma addirittura di implementarlo. Tra l'altro il massimo ribasso genera anche una concorrenza sleale fra le imprese, perché è evidente che quando tu hai un ribasso anomalo del 50-60%, la domanda è ma come stai dentro i costi? Qui non ha niente a che vedere con l'imprenditore sano che voi rappresentate, poi le mele marce sono dappertutto, ma diciamo che il corpo è sano con quello che è capitato a Formia, quando quello, io lo chiamo un delinquente, non era un imprenditore, vince l'appalto con il 60% di ribasso, è un ribasso anomalo, e costruisce la scuola senza fondamenta, è chiaro che vinci l'appalto, magari paghi pure al nero i lavoratori, ma quella scuola prima o poi crollerà sulla testa dei nostri ragazzi e degli insegnanti. Allora, perché accettare ancora, voi siete contro, sindacato è contro, un meccanismo così perverso, che tra l'altro incide sul costo del lavoro. Volevo chiederti a questo proposito del costo del lavoro, il vostro è un contratto caro, come mai è caro? Come è caro? Caro perché noi siamo l'unico settore industriale che ha basato i rapporti fra imprenditoria e sindacato sulla creazione di una bilateralità fatta e cresciuta e definita per dare supporto a imprese e specialmente a lavoratori. Per cui abbiamo un costo, noi abbiamo più 300 organi che fra casse di mutualizzazione, scuole di formazione e comitati paritetici che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro che abbiamo creato appositamente per far emergere il nostro settore, per farlo migliorare, per far uscire da quel sistema, da quel limbo dove qualcuno voleva restasse, in quel settore dove tutto può succedere di poco lecito. Addirittura questa è una figura di settore che vogliamo rigettare completamente. Noi abbiamo un settore industriale dove ci sono dei rapporti fra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali ottimi. Cresciamo perché anche quest'anno, l'anno scorso, con il rinnovo contrattuale abbiamo siglato un contratto innovativo dove abbiamo pensato a dei sistemi di prepensionamento, di incentivo all'occupazione addirittura che sono proprio definiti appositamente verso un nuovo modo di essere costruttori edili, di essere operatori nel settore delle costruzioni. Tra l'altro mi pare che anche nel vostro protocollo Confindustria CGL ci seguì il patto della fabbrica, giustamente voi evocate un principio, quello del perimetro contrattuale, cioè se fai il muratore, se fai l'edilizia, applica il contratto dell'edilizia, non il contratto multiservizi o delle colfe, delle badanti che costa di meno, perché questo vuol dire fare dumping contrattuale. Assolutamente, noi subiamo un fortissimo dumping contrattuale perché il nostro contratto, essendo un contratto, come ho detto, innovativo ma oneroso, viene spesso bypassato o non applicato appositamente per applicare altri contratti di maggior interesse che costano meno perché non hanno una bilateralità che abbiamo noi, perché non hanno tante cose che il nostro sistema ha creato a favore dei lavoratori. Questo è un problema enorme, abbiamo chiesto al governo molta più attenzione, abbiamo chiesto di riconoscere per le lavorazioni tipicamente dire, l'obbligatorietà di utilizzo del contratto del mondo delle costruzioni. È importantissimo, deve essere ulteriormente sottolineato perché nonostante tutto vediamo che spesso le imprese cercano di bypassare l'applicazione del contratto con altre formule che distorgono sicuramente il mercato perché chi compete nel rispetto del contratto ha oneri maggiori e sicuramente non è competitivo come chi non lo fa. Ha oneri maggiori ma come dicevi prima è un investimento perché altrimenti c'è una visione mia, faccio un esempio sappiamo che il lavoratore edile è un lavoratore che è sottoposto a maggiori rischi di quello che lavora in un call center lavorare a 67 anni su un'impalcatura le cadute dall'alto sono una costante quindi questa bilateralità costa di più ma previene di più anche sotto l'aspetto della formazione ad esempio e spiegaci pure questa innovazione contrattuale dell'anticipo pensionistico in che cosa consiste? Ma è un po' quello che dicevi Pocanzi tu cioè il fatto che riteniamo che un lavoratore edile che è soggettato negli anni a una matematica di lavoro a una tipologia di lavoro nei cantieri è veramente pesante perché il mondo delle costruzioni il mondo del lavoratore edile è difficile va riconosciuto noi intanto ci aspettavamo che venisse riconosciuto per cui venisse riconosciuto in quelle categorie di lavoratori che hanno un riconosciuto per cui un'agevolazione un prepensionamento statuito dall'organo Stato ma questo non è mai avvenuto purtroppo allora abbiamo cercato nell'ambito del contratto di dare una mano ai nostri lavoratori anticipando l'ingresso alla pensione con una contribuzione mutualizzata che abbiamo cercato di definire e stiamo concretizzando adesso perché destiniamo una buona fetta significativa di percentuale sul salario speriamo che il legislatore tenga conto della nostra volontà e del nostro supporto affinché capisca che il mondo delle costruzioni per quello che hai detto perché a 67 anni non si va su un ponteggio a 67 anni non si può mantenere un ritmo di vita in un ambito di un cantiere come quelli attuali tenga conto che è una categoria che va tutelata fra virgolette perché come dico dopo tanti anni di anzianità e non si fermi sul fatto che per l'ins può essere un'uscita di cassa maggiore di quella preventivata perché ogni infortunio che può accadere a quelle persone costano molto di più oltre al problema della vita capisci bene che noi abbiamo fatto abbiamo visto una statistica che più il lavoratore è anziano e più il rischio di infortunio e gli infortuni capitano maggiormente per cui dobbiamo fare in modo e spero che la politica ripeto sia attenta fare in modo che l'Inps capisca che non è un'uscita di cassa ma sicuramente è un beneficio per le casse dello Stato perché così non possiamo andare avanti si purtroppo si fanno sempre dei calcoli molto miopi l'importante è spendere poco subito poi se ti costa di più dopo non importa non viene mai conteggiato perché si lavora sempre in emergenza tra l'altro quando ero in Parlamento nella scorsa legislatura avevo lavorato sull'appe sociale però devo onestamente riconoscere che se anche l'appe sociale non viene un po' cambiata al lavoratore dell'edilizia non serve per il semplice motivo che tu fai un cantiere poi sospendi fai un cantiere cioè mentre quota 100 quella ideata da questo governo che poi quella copiata dal governo Prodi fatta in altri termini richiede 38 anni di contributi a 62 di età sull'età ci arriviamo ma sui contributi a 62 mi pare che la statistica dica che quel lavoratore dell'edilizia non ce l'ha a quell'età 38 anni proprio per la discontinuità del lavoro neanche l'appe sociale che abbiamo fatto noi perché sono 63 e solo 36 ma anche quella pare una cifra difficile da raggiungere se invece si aggiungesse questa possibilità utilizzando i soldi vostri cioè i soldi contrattuali non c'è un qualcosa che grava sulle case dello Stato potremmo in qualche modo aggiustare la situazione purtroppo il decretone non ha recepito paura di uscita di cassa per l'Inps immediata io penso che sia molto mio per questa decisione faremo di tutto affinché il governo capisca l'errore che ha fatto ma la battaglia per favorire l'anticipo pensionistico al lavoratore dell'edilizia va assolutamente riconosciuta anche con un adeguamento della normativa tra l'altro per l'appe sociale sono state stanziate risorse che non sono state spese perché questa mania in alcuni casi di prevedere uscite di cassa che sono enormi e poi a consuntivo spendi un terzo di quello che era all'enorme previsione impedisce anche di fare delle leggi cioè spaventa il legislatore o impedisce che si arrivi ad un obiettivo per i pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione un'ultima domanda adesso la discussione sta impazzendo su questo salario minimo di legge cosa ne pensi? io penso che sia meglio lasciare la contrattazione alle parti sociali ogni settore le sue peculiarità ogni settore le sue necessità noi come abbiamo detto abbiamo fatto tanto di più abbiamo una contrattazione attenta penso che non si debba uniformare tutto a prescindere ma si è demandato tutte le parti sociali che vivono la bilateralità come la viviamo noi tra l'altro io penso che dietro questa nuova bandiera abbiamo quota 100 reddito di cittadinanza e adesso il salario legale orario si nasconde un po' un inganno perché la logica che sostiene il ragionamento è io voglio penso alla proposta catalfo 9 euro lordi orari la proposta del PD al Senato addirittura 9 euro netti orari che diventano 12 io non so se chi ha fatto queste proposte in legge ha fatto un semplice calcolo tu sai che mediamente non parlo del settore delle edilizie che è più altibasi se la prendiamo un metalmeccanico sono 173 ore al mese tu moltiplica 9 per 173 vai quasi a 1600 euro lordi soltanto di paga tabellare se poi prendi la proposta del PD 12 euro perché 9 sono netti andiamo a 2000 di paga tabellare allora uno dice ebbè ma il contratto dei metalmeccanici ne prevede solo 7 io gli do di più sì ma questo comporta un rischio che l'imprenditore faccia questo ragionamento esco dal lance esco da federmeccanica esco da confindustria a quel lavoratore gli do i benedetti 9 euro all'ora punto certo ma a te non costa 9 euro a te ne costa 25 certo perché a quei 7 euro che possono essere più bassi dei 9 tu devi aggiungere che ogni 2 anni c'è uno scatto di anzianità poi devi aggiungere il passaggio di professionalità che comporta una categoria migliore poi gli metti le ferie le festività l'indennità di malattia di infortunio di maternità e poi gli metti la tredicesima e poi gli metti il trattamento di fine rapporto e poi gli metti l'indennità di turno le maggiorazioni iper straordinario il problema che abbiamo in Italia secondo me è quello del cuneo fiscale contributivo se si facessero delle proposte per abbattere il cuneo fiscale piuttosto che altre proposte che stanno girando in questi giorni forse riusciremo a rilanciare meglio la produttività specialmente nel mondo delle costruzioni questo è un fattore che bisogna tenere penso che debba essere tenuto tutto conto comunque secondo me la soluzione migliore quando si parla di salario di legge per impedire dumping contrattuale e salariale per carità giustissimo ma si faccia una cosa semplice quella che dici tu i contratti hanno fissato la base della retribuzione tabellare quindi il contratto delle pulizie sarà 100 il contratto tessile sarà 105 il contratto metallo meccanico 110 il chimico 115 l'edilizia 120 poi in cima alla scala c'è l'energia gas elettricità che sarà 130 si prendano quei salari stabiliti dalla contrattazione e si attribuisca a quei salari il valore della legge erga omnes a quel punto si traduce quello che ha fatto la contrattazione in dispositivo di legge interrogabile io credo che questa sarebbe la soluzione assolutamente da adottare bene noi siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora come sempre abbiamo fatto una conversazione molto utile spero che i nostri telespettatori le telespettatrici apprezzeranno abbiamo capito qualcosa di più per quanto riguarda un grande settore quello delle costruzioni dell'edilizia che è un volano di questa economia ringraziamo Gabriele grazie a te e diamo un caro saluto a tutte e a tutti grazie a te